La mia domanda è come mai non aveva avuto nessun contatto con noi? La mia domanda è come un'umanità e non era venuto neppure ai funerali di Salvatore ha detto perché non aveva tempo, non aveva tempo, si viene lapidati, in questo modo lui dice che non ha tempo, c'è un rimballo di responsabilità pure nel processo iniziato e ci sia questo rimballo di responsabilità, è colpa dei privati, è colpa del comune. Cosa chiedete al sindaco? Di dimostrare la sua umanità, cosa che non ha avuto, non al sindaco, al signor De Magistris, non al sindaco, noi non ci occupiamo della politica, delle cariche politiche, al signor De Magistris, la sua umanità non l'ha mai mai manifestata, mai.